Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale Anche oggi una combo stupidissima e che finalmente ho provato Stiamo parlando del Tosa Erba Un veicolo che io avevo già provato a guidare Ma non ci avevo mai fatto una gara E ieri sera, finalmente, questo mio desiderio è stato esaudito Siamo sempre con IRT, Italia Racing Team E siamo quindi con il Tosa Erba a Cadwell Park Iniziamo con l'analisi Allora, essenziale qui ragazzi sapere due trucchetti Vabbè, in primo bisogna uscire benissimo dalle ultime due curve Bisogna sacrificare tanto l'inserimento Non dobbiamo puntare a entrarci fortissimo in questa doppia curva In realtà l'ultima curva è una doppia curva Dobbiamo puntare a entrarci alla velocità giusta E quindi non allargare troppo Dobbiamo stare abbastanza interni Ma allo stesso tempo riuscire a buttare giù abbastanza presto il gas E bisogna stare attentissimi con questo a buttare giù il gas Attentissimi Allora, mi preparo già la corona del volante Che probabilmente ci servirà Lasciate a stare il casino Allora, partiamo Come vi ho detto qua Bisogna puntare a non tirare la staccatona Ma inserirsi piano piano Inserirsi piano piano E trazionare il più possibile in uscita di curva Ok? Iniziamo adesso La vera analisi del giro Ok, si parte Seconda Si tirano proprio tutte le marce Ragazzi Poi qua sul rettilineo Si lascia in quarta Non si mette la quinta La staccata è precisamente Quando finisce Questo pezzo diciamo di terra A sinistra Vedrete che Sulla sinistra Ci sarà un pezzettino di terra rettangolare Sarà lungo circa Non so 5-7 metri E quando finisce Quel pezzo di terra Si fa la staccata Bisogna usare molto il freno motore Si scala fino alla prima Usare molto il freno motore Attenzione a non scalare però Troppo velocemente Perché se no si va fuori i giri E si va a rovinare il motore Però comunque Bisogna cercare di usare bene il freno motore Si scala fino alla prima Questa prima curva Dovete cercare di fare un po' Stile freno a mano Infatti avevo spostato il freno al 56% Quindi molto sul posteriore Così Diciamo che riuscivo Sia nella prima curva Ma anche nelle altre curve A far ruotare bene l'auto Adesso vedrete qui infatti Che partirà un po' Il posteriore in frenata E sarebbe perfetto Davvero far tipo questa curva Come Tirare il freno a mano Non viene sempre Difficilissimo Però vabbè L'importante E' qui la prima curva Non andare troppo lunghi E ottimizzare tantissimo L'uscita Ok Bisogna ottimizzare tantissimo L'uscita Qua in curva 1 Non bisogna perdere troppa trazione Adesso Con quel veicolo qua Non si trazionerà Non si trazionerà mai perfettamente Però insomma Bisogna arrivare Cercare di tenere l'auto dritta Oppure Come vi ho detto Cercare di fare Un freno a mano Ma è veramente difficilissimo Comunque Far la curva Aspettare Di riadrezzare bene E poi buttare giù tutto Vedrete che io Già a centro curva Terrò il gas Circa a metà Importante Anche tenere il gas Circa a metà Da metà curva In poi Perché Ti fa guadagnare un pochettino Ti fa guadagnare Un decimo Un decimo e mezzo Però ripeto Riadrezziamo il volante E poi buttiamo giù tutto Adesso vediamo qui La staccata E come esco da curva 1 Prima Qua un po' mi è andato Ma poca roba Acceleratore Piano E poi via Qua Si tira tutta la seconda E si frena Poco prima Di quando si Allarga La strada Vedete qua in parte a destra Che dove c'è qua Il guardrail C'è un altro passaggio Diciamo D'asfalto Ecco Quando vedete Che si allarga Qui la strada Bisogna fare la staccata Bisogna Anche in questo caso Cercare di far ruotare Bene l'auto Perché Non sterza tantissimo In inserimento curva A questa A quest'auto In realtà Sottosterza tanto Se Se Siamo buoni Con il gas Se invece andiamo Da metà gas In poi Sovrasterza Con piacere Però insomma Se 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 diamo poco gas O comunque Anche In inserimento È molto Sottosterzando Questa toserba Quindi dobbiamo Aiutarsi tanto Con la frenata In questa chicane Dobbiamo Nella prima parte Andare appena appena Sopra il cordolo Ma stare Attentissimi Con il gas A non darne troppo Perché Perché l'auto L'auto Il toserba Sovrasterza Subito Quindi dobbiamo Inserirci qua Nella sinistra Stare proprio Appoggiato Col gas Appoggiato Ok Teniamo sempre Il gas Appoggiato Ed entriamo Nella destra Ok Non dobbiamo Mollare il gas Adesso Non ricordo Precisamente Se Se ho mollato Appena appena Il gas Comunque qua Il top È ragazzi Arrivare Frenata Iniziamo la curva A sinistra Teniamo appoggiato Il gas Andiamo verso La destra E quando usciamo Dritti Saremo Di seconda Ci sarà Una Una salitina Dopo questa chicane E si fa Un short shifting Seconda terza Così possiamo Tenere giù tutto Ok Un po' complicato Da spiegare Allora Il giro è molto Corto Però È molto Intenso Veramente Tanto intenso Quindi Vediamo Qua La chicane Attaccato al cordolo Gas appoggiato Gas appoggiato Giù tutto Adesso Short shifting Terza Ok Qua si arriva All'altra chicane Bisogna Allora Qua non c'è Un vero e proprio Punto di staccata Qua Bisogna Frenare Per portare Bene L'auto Dentro Alla chicane Ok Infatti come vedete Io non ho una frenata Devastante Ho proprio Appoggiato il freno Qui c'è da fare Questa cosa Bisogna Portare bene L'auto Dentro Alla prima Curva Qui Destra Portare bene L'auto Dentro Poi Quando siamo quasi dentro Scaliamo di seconda E facciamo La curva Sinistra Io Metto seconda Perché ho notato Che si riesce A far sterzare Meglio l'auto Si riesce a far restare Meglio All'interno Della curva Quindi metto seconda Metto seconda Do sempre Una puntatina Di gas Dopo la seconda Di questi Si sarà Una destra Con un saltellino Qui Importante Per fare il tempo Tenere sempre Il gas Come posso dire Appoggiato Se tu Lo alzi Perdi un po' di tempo Ok Quindi Cominciando Dall'inizio Prima curva Destra Centri di terza Freno Leggero Scali seconda Fai quella di sinistra Appoggi gas Tieni appoggiato Poi ci sarà La terza Che ci sarà Un saltellino Ma tu tieni gas Appoggiato Poi ci sarà Ancora una sinistra E poi ci sarà La penultima curva Proviamo A guardarla Allora Destra Si scala seconda Gas puntato Gas puntato Anche qui Gas puntato E poi qua Appena Appena si riesce A mettere il volante Dritto Appena si riesce A mettere il volante Dritto Dopo la sinistra Qua Nella penultima curva Io scalo Io scalo di prima Perché L'auto Perché l'auto Ancora Perché insomma Questo bicolo Questa taserba Riesco a farlo ruotare Bene di prima Però Attenzione Perché non dovete Scalare Troppo alla svelta In prima Dovete aspettare un attimo E poi scalare Perché se no Da una scalciata Ed è un attimo Proprio che da sinistra Vi va via di qua Dovete Controsterzare E poi tornare Verso destra Quindi Aspettare A scalare in prima Ok E poi Abbiamo quasi finito Adesso ritorniamo All'ultima curva Che è una raggio variabile Insomma Quindi Ripetendo qua Appena si riesce A mettere il volante Dritto Frenata Prima Si cerca di trazionare Il più possibile Seconda Qua come ho detto all'inizio Non tiriamo la staccata Della vita Cerchiamo di stare interno E di trazionare Il più possibile Per andare fino a Il traguardo E anche qua Asturian tutta la quarta Mi raccomando Ecco qua Il giro di Cadwell Park Diciamo Il layout più corto Di Cadwell Park È stato molto divertente È stata molto impegnativa Come gara ragazzi E niente Come sempre Se vi è piaciuto il video E l'avete trovato utile Lasciate un like E iscrivetevi al canale E adesso vi lascio Al giro Senza il mio commento Ciao Mi raccomando 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.